E allora il bello di conoscervi perché siete pastori nel presepe vivente ma anche pastori nella vita. Eh sì, mio marito era pastore. Questa tradizione l'avete mantenuta? L'abbiamo mantenuta, sì. No, anche dei ragazzi. Sì, sì, io ho vissuto con la famiglia della mia ragazza che sono tutti pastori e quindi ho imparato a fare la ricotta e diciamo a stare nell'ambito della pastorizia. C'è anche una pastorella? Sì, mia nonna è di tradizione, mio zio che fa la ricotta. La famiglia d'Alessandro con i suoi tanti pastori e la capostipite, proprio la matrona potremmo dire. Certo, certo, certo. Da 22 anni che siamo qua e da quando mi sono sposati è sempre questo mistero. E poi chiaramente si solidificherà, no, questo liquido? Sì, sì, è un liquido con caglio, siero di formaggio e latte naturale e sale.